Oggi parliamo della soledà. La soledà è come un piccolo mistero, perché vedo che molta gente soffre della soledà, si sente molto sola e sta inredata con la soledà. Soffre moltissimo con la soledà, però al mismo tempo hai persone che buscano la soledà. Qual è la soledà? Che è questa soledà? Oggi ti voglio insegnare o trasmettere un tipo di conoscimento che non solamente va a risolvere questo problema della soledà che tu puoi tener. È la soledà tóxica o cronica, horrible, che tu tal vez conosci. Però facerte conoscere che è la altra soledà, è una soledà elegida che ti va a dare poder. Non solamente che tu ti vai a superare i problemi della soledà che hai ora, ma anche vas a aprender a come utilizzare questa soledà a tuo favore. Sì il cammino, trasformate, cambia il mondo, para sempre. Sono Dada Yapa Mantra, di Panacea, e ora ti voglio parlare della soledà. Perché ti voglio parlare di questo? Perché io sai che è questa soledà. Io mi tornò monse nel 1986, tal vez non ho nascito. E mi ho incontrato moltissime volte, leggi dalla casa, io non ho mai regreso a mia casa come persona normale, di ogni quando visitando come monse. Però ho vivito in molti paesi del mondo, dove non ho parlato il idioma, e mi ho sentito molto solo, ok? Mi ho detto, ho tenuto soledà. Che poi io mi sentia mai solo è altra cosa. questa soledà che ora è, per te, orribile. È come un luogo oscuro, gris, che tu ti sientes come... che ti chiusi a desaparecer, che non hai conexione con la gente, la gente non ti piace, tal... o crei che la gente non ti chiede, la gente non chiede parlare contigo, tu ti senti molto male. E quindi, tutta questa cosa qui è lo che si chiama la soledà toxica, cronica. Sì? La soledà oscura, la soledà che tu non hai elegito, ti è arrivato, ti è arrivato per qualche altro motivo. Ti volviste un viudo, o te lasciaste il tuo paese, o qualche tipo di cosa passò, però tu ti senti solo, ti senti solo, sola. Ora, questa è una parte della soledà. Ora, io ho preparato un piccolo, chiamiamolo così, un piccolo libro, sì? Ora, questi sono i nostri video che tu li vedo dentro di una pagina web. Ora, ho calcolato le parole, sono 23.000 parole. Sono come un libro di 85 pagine, e te lo voglio regalar, perché te lo potrei vendere, però non te lo regalo. Ora, che facciamo a fare in questo libri? Io qui ho come tutto un index, no? Perché? Perché facciamo a vedere, prima di tutto, che è questa soledà per te, tu e la soledà, qual è la relazione che hai tu con la soledà. E qui puoi pagare un pdf, che puoi rendere, questo è totalmente tuo, tu lo puoi rendere, e così ti va a dar cuenta dove stai posto in questo momento, perché tu non lo sai, stai soffrendo, però non sai questa cosa. Ora, la otra cosa, il punto numero 12, sono 4 punti, che sono come un metodo, che se tu lo sigi, ti va a dar cuenta che è questa soledà, e come si può devolvere poderosa per te. Ora, il secondo è, conoscere e entiende che è questa soledà. Il terzo punto è, interiorizza la essenza positiva della soledà, e l'ultimo è, attua, ti va a dare tutti i tips, e tutte le mani per fare questo. Ora, in questo articolo, nel articolo principale, tu vas a trovare, poi, tutta questa explicazione basica, e tutti i enlaci, questi enlaci sono altri 19 articoli, che ti invito a visitare, e lo vamos a commentare, anche con video, però lo che io vorrei che tu lo puoi leggere, perché nella lettura ti va a dar cuenta del potere che hanno queste parole, ok? Quindi, che vamos a fare? Che questo vacio che tu hai ora, tu puoi fare lo che sia, però non ti puoi salire di questo. Perché? Perché questo vacio ti va a seguir, dove vuoi? dove vai? Tu dici, me va di viaggio e mi sento meno solo. No, la mente viene contigo, ti va a seguir per tutte le parti. Quindi, la maniera per risolvere la soledà, non è questa, non ti puoi volare della soledà, la soledà ti segue per tutte le parti, sì? Lo che devi fare è, è entender questa soledà, e saberla utilizzare a tuo favore. Questo è quello che io ti voglio insegnare. Quindi, al inizio ti vorrei a parlare, nei vari articoli, che questa soledà è mala, che qui, che già, tutte queste cose, le cose che ti creano, le problemi psicofisici, le cose che ti creano, tutto questo, però questo non mi interessa molto, te lo confievo. A me mi interessa darte soluzioni, perché già tu sai in che hueco stai se ti senti solo, sì? Non ti ho detto come ti senti male, tu ti senti male, mi ho detto, tu sai più che io in questo, io sono la altra parte, ti voglio insegnare la altra parte, la parte bonita della soledà, sì? Allora, la prima cosa è che devi comprendere chi è realmente, perché? Perché se tu ti senti solo, allora, perché mi senti solo, magari ti senti male, ti senti inferior, ti senti completa di inferiorità, ti senti, va a autoestima, tutto questo tipo, perché sei solo, perché poi sta la parte che la società sta come un estigma per le persone soli, e lo vamos a vedere. Quindi, lo che passa è che tu devi comprendere questa parte della soledà. Quale tipo di soledà hai? Ora, te lo vorrei accennare in questo video, però poi lo vamos a mirare più profondamente dopo. Quindi, la prima parte è la che ti senti, mi ho detto, la soledà oscura, la soledà tóxica, la che ti daña, la che ti fa sentire male, sì? E questa non è elegita, tu simplemente ti toccò, ti volviste viudo, te toccò, ti dejò a tua parella, dopo tantos anni che stavamo e tutto la cosa, ti dejò a tua parella, quindi come ti senti solo, sì? Se morì tua mamà, qualcosa che passa, perdiste il lavoro, o ti posarono a la carcero, qualche tipo di cose, ti senti solo, ok? Quindi, questa è la cosa che tu non la elige, ti tocca, ti golpea, ok? Hai motivi espirituali per che so passi, va bene, però ora si vanno così, velozmente, ok? Quindi, questa soledà tóxica è ugual per tutti, no, cambia, perché io posso tomarlo in una maniera, tu la puoi tomarlo in una altra maniera, sì? Però la cosa che è importante è che tutti possiamo superarla, questo è quello che io voglio che tu intiendas, questo si può superare, non è una cosa per sempre, sì? Perché è temporale, sì? Significa che tu la puoi superare quando tu sai, sai come fare, se tu non sai come fare, è chiaro, se tu non sai come fare a fútbol, è inutile che ti sto sto explicando il fútbol, tu devi capire come funziona questa cosa, e è un metodo, quando tu aprendi a come fare questo metodo, e dici, ah, questo è come lo posso superare, non solamente, superare e utilizzare a tuo favore. Ok, quindi hai l'effetto negativo della soledà tóxica, che, abbiamo detto, non sono importanti, tutto questo tipo di cose, va bene, che más? La soledà elegida, ok, che lo elige tu, tu decide, io voglio stare solo, per quanto tempo? Ok, hai vario tipo di soledà, elegida, una è la creativa, sì? Ora, tu dici, come ha fatto questo artista creare questa obra tan bonita, come ha fatto questo scrittore scrivere queste cose tan bonita, sì? esa parola tan profonda, di dove salio? Saliò della mente consciente? Pues no, della mente subconsciente, non è la mente subconsciente, non è la mente subconsciente, non è la parte più profonda, perché è una cosa che, se tu mi segui, questo è molto importante che tu lo entiendano, la mente tiene 5 capas, quindi ci sono le due capi superiore o più burdi, chiamiamole così, sono la mente consciente e subconsciente, tutto il mondo vive, la mente subconsciente e subconsciente, la mente dei sentiti, sì? e la mente dei pensamenti, ok, però nel terzo livello della mente, già troviamo che? troviamo la creatività, troviamo la intuizione, troviamo tutti, molti, troviamo diversi doni, dei poteri paranormali, tutte queste cose vengono in la tercera parte, però, come vai via? tu puoi andare già, in questo livello più profondo, quando sei nel medio di un mercato, o nel medio di una discoteca, o con una gran bugia, non lo puoi fare, tu necessiti una tranquillità, una paz interiore, perché la mente necessita questa paz per concentrarsi, per questo è così importante, a livello creativo, poter stare solo, sì? ok, quindi tutto è come già si utilizza a livello positivo, che ma? c'è altro tipo di soledà, che è la soledà sutil, io la chiamiamo così, perché? perché stiamo parlando di la soledà più profonda, la soledà che ti arriva quando tu hai pratiche spirituale, e ogni soledà sia creativa, che è sutil, uno lo chiamano regalos, l'altro lo chiamano dones, perché? perché tu non ti immagini quanti cose tu puoi sacare di allà, sì? è incredibile, e tutte queste cose le ho avendo con questi articoli e con questi video, che más? bueno, la otra cosa è attuar, bueno, uno dice, che voglio fare, quindi, voglio stare tutto il tempo nel mondo, così, rumbiando, con bulla, con cose, o mi ritiro di una ermita per allà, una montagna e voglio meditar e tutto questo, le due sono desequilibrile, hermano, questo non funziona così, sì? perché? perché queste persone che si vanno nella montagna a meditar, che stanno facendo? stanno lavorando per il suo benessore, voglio la soledà, che io posso meditar, io posso fare le mie pratiche spirituale, concentrate in me, questo non funziona, non a livello spirituale, di verità, sì? la altra cosa è, io vivo una vita di rumba, io non voglio stare solo, è un'altra cosa che vamos a vedere, il fatto che la gente cade a miedo di stare solo, perché? perché nel momento che mirore a pensare, questo momento, sto solo, listo, quindi, chi sei? poi ti faccio la domanda, perché sto vivendo? quindi, tu non vuoi pensare in questo, tu non vuoi, quindi, che haces? che simplemente, busca cose, quindi, internet, navegar per YouTube, fare tutte le cose possibili, immaginabili, va bene, o entretenerti con la gente, anche che ti aburra, sì? tu devi salire il sábato in la notte, perché devi salire, perché se no ti devi solo in la casa, è una cosa horrible, sì? ok, quindi, gli due non, qual è la idea? la media via, nella media via, che troviamo noi, troviamo il tempo, quando vogliamo stare con la gente, e poi ti ho spiegato, come lo vanno a gozar più, come lo vanno a aprovechar, questa amistà, questa compagnia con gli altri, che si vuole più profondi, più buoni, e dall'altra parte, a través di che? Di un tempo per te, tu devi anche riflessione, tu devi pensare, tu devi creare qualcosa, o, tu devi solo consumire, dici, io solamente consumo, no tu sei un consumatore, però se vuoi essere un produttore, se vuoi fare qualcosa di bello per il mondo, se vuoi servire il mondo, come lo fai, sì? devi avere questa forza, e questo potere mentale, che ti arriva dalla soledà, sì? Sì, ci devo dare molti tipi, molti suggerimenti, conselli, e tutto questo lo trovi allà qui sotto, tutti i linki, del blog, allà trovi tutto ci serve, stiamo parlando di un libri, 85 pagine, dove tu trovi tutti questi punti, e, se li segui, te posso prometere che tu vai superare, non solo superare la soledà, però la vas a disfrutar, come io la disfruto, sì? io sono una persona, spostamente, popolare, o come si chiamano, da un'altra, ho seguidores, ho video, sono leader di una organizazione spirituale, e, se siente tutto questo tipo di cose, ho ritiro, ho conferenze, tutto questo tipo di cose, quindi, quindi, io suppostamente, dovrei essere una persona, allà fuori, e, no, io sono una persona, sia dentro, quando sto con gli altri, può essere al 100% con gli altri, però, quando voglio stare conmigo mismo, quando voglio scrivere la parola, che tu vas a leggere, tu pensi che la scrivi, quando la gente mi mandava notificazione, o quando io stavo, navegando in YouTube, o quando io stavo, tutto il tempo, mirando la notizia, no signore, questo non è possibile, io mi devo concentrare, concentrare significa, incierto in me stesso, in mio mondo, per creare, per pensare, e riflessionare profondamente, ok, quindi, queste cose, sono cose che ti voglio insegnare, quando tu le puoi utilizzare, a tuo favore, tu verrai che, la tua visione della soledà, va a trasformarsi, letteralmente, e perché, perché si va a trasformare, perché, perché tu vas a entender, che l'infinito sta già in ti, e che solamente devi descubrirlo, perché sta già, lo tiene adentro, lo tiene adentro, quindi, questa è l'opportunità, a través della soledà, di arrivare all'infinito. Aprende más per tuo bienestar, in panacea.com Sìgueme come Dada Yapa Mantra, l'infinito sta già in ti, descúbrelo.